Non si placano le polemiche dopo l'unatantum inserita da ieri nell'assegno previdenziale di agosto per oltre 4 milioni di pensionati. In tanti sono pronti a fare ricorso, visto che la somma stabilita dal decreto del Governo è solo il 20-30% dei soldi spettanti ai pensionati per gli anni 2012-2013 come sentenziato dalla Corte Costituzionale. I sindacati sono sul piede di guerra. La CISL pensionati ha predisposto per tutti i pensionati, scritti e non, una lettera che vedete in video, che va inviata entro il 31 dicembre alla Direzione Generale dell'Inps e alla Direzione Territoriale, che di fatto paga l'assegno previdenziale. L'istanza serve anche a bloccare la prescrizione che dopo tre anni di fatto annulla ogni spettanza arretrata dell'Inps nei confronti dei pensionati. Nell'istanza il sindacato chiede la ricostituzione della propria pensione, la restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto dal 2012, il ricalcolo della pensione, il computo degli arretrate, degli adeguamenti maturati e gli interessi legali sulle somme arretrate. Il passo successivo è attendere 90 giorni e l'eventuale risposta a Inps, che presumibilmente non arriverà o si difenderà dicendo di aver applicato un decreto del Governo. Dopo i 90 giorni dall'istanza sarà possibile per la Cisla, attraverso il legale, effettuare un decreto ingiuntivo. Questo passaggio ha un costo legato ai soldi arretrati che si percepiranno e per questo sempre il sindacato suggerisce una causa collettiva per poter risparmiare. Inoltre sull'unatantum, che sta arrivando ai pensionati italiani che hanno una pensione tra i 1.500 e 3.000 euro lordi, comprese quelle di irreversibilità che vanno sommate secondo l'interpretazione data dal Governo, si sarebbero verificati errori di calcolo in alcune regioni. Per questo motivo il sindacato invita a verificare presso uno dei patronati l'unatantum esatta, aspettante al pensionato nell'assegno previdenziale di agosto.